dal libro della genesi gli anni della vita di Sara furono 127 questi furono gli anni della vita di Sara Sara morì a Kiriath Arba cioè Ebron nella terra di Canaan e Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli titi io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi perché io possa portare via il morto e seppellirlo Abramo seppelli Sara sua moglie nella caverna nel campo di Macpela di fronte a Mamre cioè Ebron nella terra di Canaan Abramo era ormai vecchio avanti negli anni e il Signore lo aveva benedetto in tutto allora Abramo disse al suo servo il più anziano della casa che aveva potere su tutti i suoi beni metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore Dio del cielo e Dio della terra che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei in mezzo ai quali abito ma che andrai nella mia terra tra la mia parentela a scegliere una moglie per mio figlio Isacco gli disse il servo se la donna non mi vuol seguire in questa terra dovrò forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito gli rispose Abramo guardati da ricondurre la mio figlio il Signore Dio del cielo e Dio della terra che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra natia che mi ha parlato mi ha giurato alla tua discendenza darò questa terra egli stesso manderà il suo angelo davanti a te perché tu possa prendere di là una moglie per mio figlio se la donna non vorrà seguirti allora sarai libero dal giuramento a me fatto ma non devi ricondurre la mio figlio dopo molto tempo Isacco rientrava dal pozzo di la Cairoi abitava infatti nella regione del Negev Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in compagnia e alzando gli occhi vide venire i cammelli alzò gli occhi anche Rebecca vide Isacco e scese subito dal cammello e disse al servo chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontra noi il servo rispose è il mio padrone allora ella prese il velo e si coprì il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara si prese in moglie Rebecca e l'amò Isacco trovò conforto dopo la morte della madre rendete grazie al Signore perché è buono rendete grazie al Signore perché è buono perché il suo amore è per sempre chi può narrare le protezze del Signore fa risuonare tutta la sua lode rendete grazie al Signore perché è buono beati coloro che osservano il diritto e agiscono con giustizia in ogni tempo ricordati di me Signore per amore del tuo popolo rendete grazie al Signore perché è buono visitami con la tua salvezza perché io veda il bene dei tuoi eletti gioisca della gioia del tuo popolo mi vanti della tua eredità rendete grazie al Signore perché è buono dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto il manco delle imposte e gli disse seguimi ed egli si alzò e lo seguì mentre sedeva a tavola nella casa sopraggiuncero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli vedendo ciò i farisei dicevano ai suoi discepoli come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori udito questo disse non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati andate imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori